salve a tutti benvenuti a un nuovo episodio di letture arcane oggi io e poker vorremmo leggervi l'incipit di un romanzo di tim severin il vichingo il mio nome è torgis laveson e provengo dalle terre del lontano nord sono nato un giorno d'estate dell'anno 999 in un'isola spazzata dal vento a largo della costa settentrionale della scozia mio padre e lei fi il fortunato figlio del grande eric e lo rosso sono cresciuto nella piccola colonia vichinga fondate in mezzo ai ghiacci della groenlandia è in questa terra fredda e desolata che ho conosciuto il culto di odino e di tor e ho appreso il linguaggio segreto delle rune come mia madre possiedo la seconda vista la capacità di vedere il futuro è un grande dono ma talvolta è una terribile dannazione come mio padre ho percorso i mari del nord spingendomi sempre più lontano fino a raggiungere terre sconosciute ho lottato contro il temibile popolo dalle lame affilate che mai nessuno era riuscito a sconfiggere mi sono imbattuto nei seguaci della nuova religione del cristo bianco ho incontrato l'amore e la prigionia ho sfiorato tante volte la morte oggi ormai vecchio celato sotto un saio da monaco in un antico eremo dell'irlanda avendo imparato che le parole hanno più potere delle armi sono pronto a raccontare la mia storia capitolo primo sorrido di nascosto ascoltando i pettegolezzi da refettorio c'è un monaco a brema al di là del mare del nord che è stato accusato di raccogliere informazioni per conto del vescovo di brema e di amburgo ad adamo così si chiama è stato affidato il compito di scoprire tutto il possibile sui luoghi più remoti del mondo e sulle persone che vi abitano la chiesa lo è incaricato di redigere una relazione completa su tutte le terre conosciute anche in modo vago probabilmente allo scopo di convertirle in un secondo tempo lui interroga viaggiatori e naviganti pellegrini di ritorno e diplomatici stranieri prende appunti e diffonde liste di domande viaggia da solo e nel frattempo osserva se sapesse che proprio qui in quest'eremo tra i monaci c'è qualcuno che potrebbe parlargli di luoghi insoliti di strani eventi alla stregua di uno dei testimoni che sta così scrupolosamente interrogando dal momento che non ho notizie di questo germanico così diligente sarei disposto a protrarre gli ultimi anni della mia vita nella calma tenebrante di questo luogo dove sto per compiere 70 anni continuerei a copiare i testi sacri decorando i capilettera con quei ghirigori intrecciati che miei confratelli credono che io tracci in nome dell'immensa gloria divina mentre la verità è che provo un intimo piacere nel sapere che quegli svolazzi e quegli intrecci derivano dal passato pagano che loro condannano come idolatra ma i loro pettegolezzi da refettorio mi hanno invece spinto a trovarmi un cantuccio appartato nel nostro tranquillo scriptorium dove iniziare a scrivere la storia segreta della mia vita mi domando come reagirebbero i miei confratelli se scoprissero che tra di loro vive indisturbato uno della temuta stirpe dei barbari del nord il cui ricordo li fa ancora rabbrividire se sapessero che un uomo dei mari dell'estremo nord indossa il saio e la tonaca accanto a loro penso che riderebbero vigore a quella supplica che una volta ho trovato scritta a margine di uno dei loro vecchi annali o signore proteggici dall'ira dello straniero redigere le mie memorie diventerà anche un passatempo per un povero vecchio quale sono che altrimenti osserverebbe l'alternarsi di luce e tenebra sulla sommità della pagina mentre gli altri copisti se ne stanno curvi sui banchi dietro a lui e dato che questa attività segreta ha lo scopo di vincere la noia allora comincerò a narrare subito come il mio mentore il britem un tempo ha instillato nella mia giovane mente più di mezzo secolo fa e dall'inizio la mia nascita ha mancato due obiettivi il primo quando per pochi mesi non sono nato nell'anno mille l'anno catastrofico predetto da coloro che si aspettavano spesso con entusiasmo la fine del mondo come la chiamiamo noi o il grande armageddon profetizzato dai nefasti padri della chiesa il secondo quando per poco non sono stato il primo della nostra stirpe lontanissima a nascere in quella terra remota al di là dell'oceano occidentale a tutt'oggi poco conosciuta se si accettano alcune dicerie vaghe inconsistenti a quel tempo tale terra era chiamata vinland la fertile per sua fortuna mio fratello adottivo ebbe lo l'onore di essere il primo è forse l'unico bambino dalla carnagione chiara a venire al mondo in quella landa remota comunque i tre anni che ho passato là sono un lasso di tempo considerevole come chiunque della nostra gente può dichiarare e dal momento che ero molto piccolo hanno lasciato il segno ricordo ancora in modo vivido le immense e silenziose foreste l'acqua scura delle paludi melmose rischiarata dall'uccichio dei salmoni argentei l'irregolare andatura dei cervi dalle ampie corna ramificate e quelle strane popolazioni native dagli occhi allungati e dalla notevole bruttezza che noi chiamavamo scralling e che alla fine ci hanno cacciati bene i nostri quasi sei minuti canini sono trascorsi io e poker vi salutiamo e vi auguriamo una giornata memorabile a presto